Ciao ragazzi, dalla Votteguccia dei Sigili, dal Teo Crack Apart, siamo al 28 marzo, un crimine al giorno ed è un crimine un po' particolare, o meglio identificarlo come un vero e proprio crimine, ma è qualcosa di cui è necessario parlare, io l'ho intitolata la puntata di oggi la Chernobyl americana, questo perché sebbene l'incidente di cui andremo a parlare oggi è probabilmente un incidente dai risultati effettivi di avvelenamento insomma radiattivo leggermente inferiore rispetto a Chernobyl, la puntualità e la genialità con cui gli americani a tutti gli effetti sui media sono riusciti a nascondere la gravità dell'incidente e soprattutto l'approccio assolutamente non preparato e non tecnicamente rilevante che hanno avuto alla gestione di questo incidente è sicuramente degno di nota, così come è degno di nota l'incredibile distanza diciamo mediatica che c'è fra tutto il report che riguarda Chernobyl o Fukushima, insomma sono incidenti di questo genere e un incidente invece avvenuto alla centrale atomica di Three Mile Island che adesso andiamo a vedere guardando anche la scheda, tenete conto che questa era una centrale atomica che era stata ufficialmente aperta il settembre dell'anno prima rispetto al 28 marzo 1979 a cui facciamo riferimento per il crimine del giorno. Il luogo è la centrale atomica dell'isola di Three Mile, Three Mile Island, Pennsylvania, Stati Uniti, sono le 4 del mattino. Che cosa succede? Succede che per un'unione di fattori che riguardano il guasto di due pompe del sistema di raffreddamento delle barre in cui sono inseriti i noccioli di uranio e contemporaneamente l'assoluta mancanza di preparazione dei tecnici relativi, cioè dei tecnici che si occupavano a quella porzione del turno notturno insieme al responsabile avviene il disastro perché sostanzialmente non si riesce a leggere neanche con precisione gli indicatori relativi al fatto che l'acqua che viene tenuta, l'acqua distillata unita a qualche goccia di boro che viene inserita all'interno del reattore ad altissima pressione per poter tenere raffreddate queste barre in cui sono inseriti fino a 4.000 piccoli noccioli di uranio che sostanzialmente entrano ed escono dall'acqua stessa per poter ottenere un riscaldamento e poi un passaggio all'interno delle turbine, la generazione effettiva della energia prodotta dalla centrale atomica non riescono effettivamente a capire che l'acqua è troppo bassa invece che essere troppo alta secondo di quello che vengono definiti gli allarmi all'interno della centrale di controllo. sono le 4 del mattino, in quel momento sono presenti persone che io ho indicato come sospetti ma ovviamente non si tratta solamente di loro quanto anche della commissione sul nucleare americana che aveva appena dato il suo ok alla centrale quindi il settembre del 1978, i sospetti che io qua ho indicato Craig Faust, Edward Frederick, tecnici e William Zewey responsabile del turno insieme ai problemi del sistema elettrico e dell'elementazione delle pompe non erano sostanzialmente neanche in possesso di un diploma del college oltre a non essere ovviamente ingegneri nucleari al controllo di questa centrale che era appena stata aperta e che aveva già verificato alcune piccole anomalie della gestione elettrica alle pompe di raffreddamento. il risultato fu che l'acqua salì di temperatura in maniera eccezionale perse pressione a causa del fusione delle barre in cui erano inseriti i noccioli di uranio e qualcosa di simile insomma quello che successe a cernobil ebbe luogo anche qui a prima e l'island con la differenza che il diciamo i muri e la struttura del reattore stesso erano decisamente più erano sicuramente più nuovi e decisamente più resistenti quindi la maggior parte dei danni vennero contenuti all'interno teoricamente vennero contenuti all'interno della nostra centrale infatti vittime al momento o per la manutenzione non ce ne furono nonostante l'enorme fuoriuscita di gas radioattivi a causa insomma di questo incidente al sistema di raffreddamento ma ci fu un aumento di tumori alla tiroide e tumori in realtà assortiti da lì e per i seguenti 50 anni fino al 70 per cento con un raggio di ingerenza dell'avvelenamento pari a 55 chilometri dall'incidente tanto è vero che tutto attorno all'isola e sulla terraferma ancora oggi non ci sono delle zone ad alta densità se non a nulla densità di popolazione a causa del fatto che evidentemente il congresso già era gli erano stati mandati dei dettagli dei dossier relativi allo stato di sicurezza elettrica e di raffreddamento della centrale a partire da settembre quindi a partire dalla inaugurazione e ma vennero sostanzialmente ignorati messi in un cassetto insomma questi sono sistemi che accadono un po dappertutto ma è molto più difficile trovare informazioni relativi a questo incidente rispetto a tante altre situazioni che non riguardano ovviamente gli statunitensi errata lettura degli strumenti e intervento contrario quindi spegnimento di due pompe ausiliarie spegnimento di due pompe ausiliarie invece della accensione a massimo regime per il raffreddamento è stato il risultato che venne portato a termine insomma da questi tecnici che al di là di tutto non avevano la preparazione necessaria per gestire un'emergenza in una situazione di lavoro di questo genere che dire nessun risultato legale ovviamente sebbene un rallentamento della fiducia e anche fisico del programma nucleare americano ma sicuramente i danni sono visibili e sono stati visibili fino a oggi dal punto di vista tumorale e dal punto di vista della ripopolazione di una zona che sostanzialmente rimane una zona interamente rurale ma ancora largamente disabitata nella zona della Pennsylvania che sta direttamente di fronte all'isola di Three Mile Island si tratta di un incidente che ha raggiunto la gravità Ines 5 quindi 5 su scala 7 l'incidente Fukushima e l'incidente di Chernobyl vengono definiti come incidenti a gravità 7 ma ricordiamo che dall'incidente di gravità 5 la fuoriuscita di gas radiattivi viene considerata già letale in quantità abbondante quindi sostanzialmente dal 5 in su siamo all'interno di incidenti molto gravi per quanto concerne le strutture nucleari questo è il crimine di oggi 28 marzo e io vi saluto ci sentiamo domani con un nuovo crimine al giorno con una nuova pillola di crimine o di curiosità insomma nell'ambiente come sempre alla bottebuccia dei sicili ciao ciao